L'Ever Roto, la nuovissima realizzazione firmata Mico e ideata da sottoscritto, Ingegner Carena. Alla Market Innovation Company è stata fatta richiesta di progettazione di una nuova pedana di carico e raccordo. Avremmo potuto trovare semplicemente soluzioni dal passato, invece ci siamo ispirati guardando il futuro, realizzando una nuova tipologia di attrezzatura per il carico e scarico. In pochi mesi è stata realizzata l'Ever Roto Casserata con delle peculiarità che vanno oltre il normale funzionamento di una comune rampa. Nulla è stato lasciato al caso, tutto è stato opportunamente ponderato. Il risultato è questo, bella davvero. Peculiarità di cui andiamo orgogliosi della nostra pedana di raccordo è la spondina frontale anticaduta. Nella posizione di riposo della pedana il labbro frontale assume la configurazione verticale creando un ostacolo di 20 cm garantendo così protezione contro le pericolose cadute della banchina. Sonni tranquilli per i datori di lavoro. Il labbro frontale rastremato e inclinato permette un facile attracco su qualsiasi automezzo. Un unico prodotto per tutti i veicoli. La lever roto può essere facilmente movimentata sia nelle fasi di carico e scarico che in quelle di installazione. Sollevabile sia lateralmente che frontalmente da qualsiasi carrello elevatore. Basta golfare le cinghie. Una delle maggiori difficoltà nella realizzazione delle baie di carico è la costruzione della fossa per l'installazione della pedana. Questo comporta alti costi. La nostra lever roto casserata è invece pronta per l'installazione. Scarichi, installi, getti e pronti via. Addio per edili.